Nucleare. Nell'aula di Palazzo Lascaris, consiglio regionale aperto, il primo in Italia, dedicato interamente al deposito nazionale unico per le scorie. La seduta, incentrata in particolare sulle ricadute per il territorio, si è aperta con l'intervento del presidente della regione Alberto Cirio. Sul nucleare il Piemonte ha già fatto la sua parte, pagando personalmente, in termini di salute pubblica, occupazione del territorio, investimenti di turismo, ha dichiarato Cirio. Si tratta di scelte impattanti che non si possono assumere senza coinvolgere sindaci e cittadini. Al dibattito sono poi intervenuti i vertici di Sogin. Il presidente Luigi Perri si è detto consapevole della complessità del tema, obiettivo strategico che ci consentirà di risolvere una problematica annosa senza doverla trasferire alle generazioni future. Per Sogin è intervenuto anche l'AD Emanuele Fontani e successivamente hanno preso la parola Fabio Chiaravelli, direttore del Deposito Nazionale, rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Ispettorato Nazionale Sicurezza Nucleare, ARPA Piemonte, Autorità del Mondo Accademico, Associazioni Ambientaliste, Confagricoltura, CARP, Piccoli Comuni e Uncem Piemonte. La seconda parte del Consiglio regionale aperto ha visto gli interventi degli amministratori locali, che hanno espresso una generale diffidenza nei confronti delle scelte fatte e preoccupazione per le possibili conseguenze. L'assessore all'ambiente Matteo Marnati ha annunciato la convocazione del Tavolo della Trasparenza per dare informazioni e supporto. Il debattito è proseguito con numerosi interventi da parte dei gruppi consigliari. Nell'Assemblea del Consiglio regionale seguita alla seduta aperta, l'Aula ha approvato cinque ordini del giorno collegati. Il documento presentato per Fratelli d'Italia da Davide Nicco impegna il Presidente e la Giunta regionale a farsi parte attiva nei confronti del Governo per tutelare i territori ad alta valenza agricola e naturalistica. L'ordine del giorno per la Lega è stato presentato da Andrea Cane. Intendo, a nome del gruppo di maggioranza, impegnare la Giunta regionale e gli assessori ad attivarsi semplicemente affinché il Governo si adoperi presso SOGI per la costituzione di un tavolo di lavoro dove finalmente possono partecipare gli enti locali interessati. L'ordine del giorno, a firma di Shunsacco, Movimento 5 Stelle, sottoscritto dal Movimento 4 Ottobre, impegna la Giunta a condividere con il Consiglio regionale i rilievi eseguiti dall'ARPA sulle aree individuate come potenzialmente idonee a ospitare il sito unico nazionale. Quello presentato da Alberto Avetta, Partito Democratico, impegna il Presidente e la Giunta regionale a sostenere la proroga della scadenza per il deposito affinché tutti i soggetti interessati possano sviluppare i necessari approfondimenti. Auspicchiamo anche che la Regione faccia quel lavoro di affiancamento dei comuni mettendo a disposizione le competenze tecniche che consentano di evidenziare quelle criticità che possono mettere in evidenza l'inadeguatezza di questi territori rispetto alla scelta. Il documento presentato per Forza Italia da Paolo Ruzzola, illustrato da Carlo Riva Vercellotti, impegna la Giunta a convocare in modo permanente il tavolo per la trasparenza quale luogo di confronto per tutti i soggetti interessati.